Il processo è 3, adatta velocità, raccomandiamo di presentare segno. Ok, eccomi in premium, tra l'altro è comodissimo. La business è stra comoda, ragazzi. Mamma mia è saluti in voglio. Quarta, Bernaboli centrale, è in partenza dal binario 11, ferma a Torino-Rocca Susa, Milano centrale, Milano-Rocco, Reggio e Chiavo, Mediopala. Dear passengers, we inform you that the pressure are all sub 93, 20... ...the pressure are all over the world. Sento la prima caglianza e mi sono spostato fino alla settima. Sento la prima caglianza e mi sono spostato fino alla settimana. Sento la prima caglianza e mi sono spostato fino alla settimana. Sento la prima caglianza e mi sono spostato fino alla settimana. Sento la prima caglianza e mi sono spostato fino alla settimana. Sento la prima caglianza e mi sono spostato fino alla settimana. Sento la prima caglianza e mi sono spostato fino alla settimana. Mi sono spostato fino alla settimana. come si. Sento la prima caglianza e mi sono spostato fino alla settimana. Signф � somebody sagte a Ritmiopala e mi sono spostato fino alla settimana. Per me, come perché le risoluzioni sono spostato fino a temporarily? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.